Ciao, sono Bella Verge per PokerStrategy.com. In questo video vi spiegherò come effettuare la registrazione sul nostro sito e diventare così membri dell'Accademia di Poker più importante al mondo. In questa schermata vedete la home page, quando cercate PokerStrategy.com arrivate in questa home page, in cui ci sono tutte le informazioni generali di PokerStrategy.com. Direttamente dal box sulla destra potete fare la registrazione. Ho già inserito i dati, il nome utente ho messo video di esempio, è necessario inserire due volte una mail valida, la propria password e nel campo di presentazione si può inserire il nickname del proprio amico che ci ha raccontato di PokerStrategy.com. Se mettete il nome utente di un altro membro, lui riceverà dei bonus secondo il nostro programma presenta un amico. Per avere tutte le informazioni basta cliccare invita annunci qui nel menu in alto e ci sono tutti i termini e le condizioni di questa promozione. Una volta inserito tutti questi dati basta cliccare registrati gratis per continuare la registrazione. Dopo aver completato correttamente la registrazione arriviamo a questa pagina in cui viene chiesta di controllare la nostra email. È stata mandata infatti una email di conferma alla nostra email che abbiamo registrato in cui noi dobbiamo cliccare un link per attivare definitivamente il nostro account. La mail che è arrivata a questa forma dà il benvenuto nella nostra community e basta cliccare questo link per verificare l'inizio email. Cliccandolo si arriva a quest'altra pagina in cui la registrazione completa. Siamo passati al cosiddetto status basic. Lo status è segnalato da questa iconcina in alto a destra a fianco del link. A questo punto arriviamo a una scelta. Possiamo sfruttare 35 euro gratuiti di capitale iniziale oppure sfruttare uno dei bonus di deposito. Cosa significano queste due scelte? I 35 euro di capitale iniziale gratuito sono un denaro senza vincoli che mettiamo su una poker room a noi affiliata all'account collegato con il tuo account di poker strategy. Per poter richiedere i 35 euro gratuiti di capitale devi però prima superare un kit di poker in cui dimostri di aver letto i nostri articoli di base. Se invece non ti interessa un capitale iniziale gratuito e sei già a giocare per esempio e vuoi direttamente andare a giocare ai tavoli e sfruttare una delle nostre offerte di bonus di primo deposito basta cliccare questo tasto per arrivare alla panoramica di tutte le offerte. Cliccando e scegli il tuo bonus di deposito si arriva in questa sezione in cui sono elencate tutte le nostre poker room partner. Allo stesso modo sulla destra ci sono tutti i bonus e i relativi bonus code che puoi sfruttare in esclusiva con pokerstrategi.com. Per decidere quale room giocare ti consiglio di leggere attentamente tutte le caratteristiche delle poker room e i dettagli del bonus. Basta cliccare su uno degli stemmi delle poker room per arrivare a un overview completa in cui ci sono alcune righe che descrivono la poker room e cliccando poi guida al bonus si ottiene una guida rapida per creare un account sul software appena scaricato e iniziare a giocare direttamente. Se invece del bonus di primo deposito vuoi sfruttare 35 euro gratuiti di capitale iniziale ti basta cliccare sul tasto capitale di partenza gratuito di 35 euro. Così facendo arrivi a questa nuova pagina in cui ti viene spiegato che dovrei superare un quiz. Per scegliere per arrivare al quiz basta cliccare superare al quiz, si tengo le tornei e si arriva all'overview del quiz. Il quiz consiste in 20 domande strategiche basate sugli articoli di strategia di base che offriamo a tutti gli utenti basics su pokerstrategi.com. Se già hai studiato gli articoli di base sui sit and go puoi iniziare direttamente il quiz e cercare di accappare altri 35 euro. Se invece non l'hai ancora fatto ti consigliamo di leggere prima gli articoli perché è molto difficile superare il quiz senza aver prima consultato la documentazione necessaria. Questi quattro articoli sono i quattro articoli di base su cui inverterai il quiz. Quando sei pronto puoi semplicemente cliccare inizia il quiz e assicurati il 35 euro per iniziare il test. Una volta cliccato il tasto apparirà qua sulla destra la scritta in verde quiz iniziato. Per iniziare il quiz bisogna inserire nel campo di testo le parole che appaiono nell'immagine di controllo. Dopo averle inserite basta cliccare in via per iniziare il quiz. Questa è la prima delle 20 domande del quiz. Ci chiede se sei all'inizio di un torneo, sei in posizione iniziale, hai una coppia di red prima del flop. Tutti i player prima di te fanno fold. Cosa fai? In questa situazione io penso che sia necessario rilanciare. Quindi clicco fai raise e poi clicco prossimo. Così via, dopo aver risposto a tutte le 20 domande correttamente, il quiz sarà superato. Una volta superato il quiz arriverai a questa pagina in cui ti vengono offerte le Poker Room partner su cui puoi ricevere i 35 euro di capitale di partenza. In questo caso ho visualizzato la pagina di Party Poker e basta cliccare sul tasto giallo con su scritto tieni 35 euro per arrivare alla guida del download della Poker Room. Una volta installato il software secondo le istruzioni della nostra guida, aver inserito il codice bonus, i 35 euro di capitale di partenza verranno trasferiti automaticamente sul tuo account nel giro di pochi giorni e dopo potrai giocare direttamente a soldi veri. Nell'attesa ti consiglio di leggere gli articoli di strategia sotto strategia e guardare i nostri video in modo da arrivare ai tavoli già più consapevole e più capace nel tuo gioco. Spero che questo video vi sia stato di aiuto per diventare membri attivi della community di PokerStrategy.com e vi ricordo che se avete qualsiasi tipo di dubbio o domanda potete andare sul nostro forum e aprire un thread per chiedere aiuto oppure semplicemente cliccare sul pulsante in alto a destra aiuto per arrivare a questa pagina in cui scrivendo un messaggio al nostro supporto utenti riceverete aiuto personalizzato 24 ore al giorno e sette giorni su sette. Io sono Bella Vecci per PochiStrategy.com, grazie per l'ascolto e un saluto.